e comunque questo è il mio armadio ora ho portato per sette giorni 18 camicie 150 magliette 19 pantaloni dato che durante il viaggio abbiamo fatto zero ore di sonno ci siamo svegliati ora siamo operativi possono sì queste sono tutte piccole stronzate ma che sommate ti creano un outfit ovvero questo vi faccio vedere come uscirà cinture ogni colore accessori qualche scarpa qualche costume da abbinare con le camicie t-shirt e niente a più tardi eccolo qui mi direte una cazzata e tu vedrai quando lo metti con la camicia che ti esce fuori questo qui questo fiocchettino che delizia niente veniva dal mare ora vi faccio vedere dove siamo questo è molto carino riservato silenzioso tutto curato veramente delizioso dovrei dire un sogno carina la bimba la macchina più bella che c'è al commercio l'androver dell'art per quanto riguarda l'outfit della notte giacchettino jeans visto il maestrale pantaloni beige skinny scarpetta una sneaker salta pantalone maglietta dentro il pantalone e via il dettaglio manica lunga ovvero a tre quarti viscose da gelo bond up golden goose giacchettino del campione invernale l'apprezzare l'apprezzare